Buonasera Salve, buonasera, parrucchiera Genova Fasari Dica pure Volevo prenotare per domani per farmi i capelli Allora, controllo l'agenda Sì, domani siamo liberi C'è credo, questo nome Che? No, no, niente, dicevo che insomma dovevo farmi taglio, tinta, lavaggio, tutte quelle cose insomma Ok, perfetto, vengo domani alle 16 Salve Benvenuta, lei è? Sì, io allora sono Andrea Sì, c'è da aspettare un po' Ma se non c'è nessuno? E beh, deve attendere che io mi prepari psicologicamente Oddio, che gente Lei comunque è una grandissima scregiata Ma mi faccia il piacere Prego, ora si può accomodare Grazie, vengo con la borsa Come vuole lei Ok, la porta, magari qualcuno me la frega Ma cosa? La borsa, oh, la borsa Ma faccia un po' da cristollino te pare Ma qui è tutto sporco Ma smetta gli occhiali Guarda quanto è pulito, alla perfezione Io non mi siedo su questa sedia E poi non mi faccio assolutamente mettere le mani in testa Io me ne vado e la denuncio all'aslo Adios brutas La borsa, la borsa, la borsa